Siamo con Gianluigi Nuzzi a Padova in occasione della Fiera delle Parole al Palazzo della Ragione. Gianluigi, ma che hai combinato? Ho combinato che ho fatto il mio lavoro, che è quello di informare l'opinione pubblica sulle criticità, i problemi che ha dovuto affrontare Ratzinger e Josef Ratzinger all'interno della Curia e del Vaticano negli ultimi anni e questo in parte con le carte visionate da lui stesso, che raccontano storie di congiure, di cospirazioni, di zone opache, denunce di corruzione del Santo Padre e poi l'ingerenza dello Stato del Vaticano sull'attività politica del nostro paese, gli incontri riservati con Giorgio Napolitano, le spese folli del Vaticano come i presepi in Piazza San Pietro da 250.000 euro, gli accordi sotto banco per evitare di pagare gli arretrati ICI, che la Chiesa italiana pagasse gli arretrati ICI allo Stato nostro, il nostro Stato, che poi ha rintrodotto l'Imu a discapito dei nostri portafogli. Si tratta ovviamente di un procedimento speciale, quello che sta avvenendo nello Stato del Vaticano, tant'è che è di una rapidità sconcertante. Dopo tre giorni dall'uscita del tuo libro c'era già stato un ordine di perquisizione a casa di Gabriele Paolo e soprattutto già l'arresto. Allora io faccio la domanda, questa indagine è stata velocissima, però dal 2006 lui fotocopiava i documenti e non se ne è accorto nessuno. Io credo che girino tante barzellette e questo perché è più interessante distorcere l'attenzione dalle denunce contenute nei documenti, contenute nel libro, puntando tutta l'attenzione sul povero Paolo Gabriele. Cioè chi fa male alla Chiesa? Paolo Gabriele che fa emergere determinate vicende di interessi opachi, di lotte di potere, quella che Ratzinger chiama l'ambizione umana del potere, è lui che fa male alla Chiesa o sono questi i fatti a fare male alla Chiesa e a delegittimarla? Questa è la domanda. Lo scrittore Foresight, uno scrittore di grande successo, dei spy story, quando chiedeva appunto a un agente dell'FBI dove poteva andare in Italia per parlare, per scrivere un libro che parlasse di Andrangheta, gli hanno risposto Milano, alla luce anche dell'arresto di ieri al Pirellone. Puoi dirci qualcosa anche di quel tuo libro che si chiamava Metastasi? Metastasi è un viaggio nella pancia dell'Andrangheta del Nord, nella mentalità di una delle associazioni criminali meno conosciute ancora oggi e che è arrivata ormai alla terza generazione di delinquenti che prosperano nella mia regione, mia intendo dove io vivo, perché ormai non c'è molta differenza tra il Nord e il Sud se non nel controllo militare del territorio. Cioè mentre l'esercizio commerciale, il commerciante in Sicilia, in Calabria, qui parliamo di Andrangheta, quindi in Calabria, deve pagare l'obolo per non vedersi la sala cinesca colpita da proiettili, a Milano non c'è questo controllo e questo dà un senso di sicurezza apparente ma che invece è molto più temibile perché qui reinveste e rimpiega i propri capitali in acquisto di palazzi, di esercizi commerciali, qui controlla il movimento terra, qui controlla catene della grande distribuzione, cioè qui nel Nord riesce a garantire un buon reddito ai capitali e per questo doveva avere i contatti giusti e quindi arriva a incassare 50 euro per ogni preferenza che assicura al politico di turno per metterlo nel sacco. Bertone ha detto che molti giornalisti si ispirano a Dan Brown. Io parlo di fatti, non sono un romanziere, in quel libro ci sono centinaia di documenti, la mia nonna diceva carta canta.